Hanno agito indisturbati nonostante le luci del giorno, sono entrati nel capannone e hanno rubato attrezzi di primo soccorso. Ladri in azione alla sagra di Onara di Tombolo. Ad accoggersi del furto sono stati i volontari della festa parrocchiale che entrati nel capannone per iniziare i lavori della serata hanno notato che la porta del magazzino era stata scardinata. I malviventi sono riusciti a portare via un defibrillatore, uno zaino di soccorso con all'interno tutto il necessario per il primo intervento. Il valore del furto si aggira attorno ai 1700 euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Cittadella che hanno fatto un sopralluogo nell'area della sagra e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.